Le vie di legni che attraversano il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna sono la storia di una comunità che nel bosco aveva la sua economia. Strade come la Giogana, come gli Acuti, mantengono antiche testimonianze di questo viaggio, degli alveri di Faggio e del pregiato abete bianco. Tre autori, Massimo Ducci, Graziano Maggi e Bruno Roba, hanno percorso tutte queste vie e in tre anni hanno realizzato un volume dettagliato con tanto di cartografia e immagini fotografiche che insegna a chi fa trekking a guardarsi intorno per scoprire la storia. Per loro è il cammino delle vive travi che è stato presentato al Berretta Rossa di Soci. C'è un punto che ti ha affascinato di più? Beh, soprattutto quando fai i crinali. I crinali alla ricerca di queste cose che spazi con la vista sia sulla valle romagnola che su quella toscana, sul nostro casentino. Poi ci sono delle tracce, delle strade che portano verso l'ermo dei Camaldori che hanno una storia millenaria. Addirittura strade che non sono state percorse soltanto da chi le percorreva per trainare i legni ma erano strade in antecedenza percorse da pellegrini, viandanti, commercianti. L'origine dell'uomo stesso, del nostro a cultura è nel bosco, nella foresta. Siamo probabilmente nati sugli alberi, poi siamo scesi e abbiamo iniziato a camminare ma la foresta è sempre rimasta una dimensione magica. L'errimo di Camaldoli con la sua corona diabeti racconta questa storia. Molto bello, ci si sente veramente piccoli e spesso anche inadeguati.